Musica Seduta solenne del Consiglio regionale a chiusura delle celebrazioni della Festa d'Europa. Di rilievo gli interventi del Presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli, il Presidente della Toscana Eugenio Gianni, del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del Presidente dell'Istituto universitario europeo René Nondeus. Molto importante, in realtà il giorno dell'Europa sappiamo è il 9 maggio e si sono susseguite tante iniziative che oggi trovano la loro legittimazione per la Toscana con la seduta solenne. L'Europa è il nostro punto di riferimento da un punto di vista anche concreto nella percezione della gente oggi che si parli di vaccino e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale o che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini e allora vale la pena vivere come la Toscana ospita l'università europea e devo dire che sotto questo aspetto il prossimo anno saranno 50 anni da quel 1972 quando esponenti che nel nostro Paese erano toscani avevano ruoli importanti penso ad Amintore Fanfani, a Giorgio Lapira, vollero che fosse proprio nelle colline di Fiesole avere un'università che dalla Toscana fosse l'università per la formazione della nuova classe dirigente in Europa o si parla dei rapporti che possono portare nuovi investimenti come vi dicevo non solo del recovery fund ma anche del settennato dei fondi europei che parte proprio dal 2021 per arrivare al 2027 l'Europa è cruciale nella vita di tutti noi e sempre più deve essere un'Europa che si integra, che parla alla gente sempre più un'Europa che le decisioni le prende come Europa dei popoli, non come Europa degli stati. Oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti il manifesto di Vento Tene, Altero Spinelli, le parole di Schumann il 9 maggio 1950 sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre l'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro certo l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente Deussè danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo io devo dire che finora la Commissione ha proposto questa festa ma in realtà non c'è stata molta attività in più ci sono state delle audizioni la proposta che è stata fatta per il PNRR non è stata così forte come noi avremmo voluto ma soprattutto c'è qualcosa che la Regione Toscana deve dire con forza che l'Unione Europea avrà senso se tutti gli Stati e tutti i cittadini di ciascuno Stato avranno pari dignità tra loro finché esisteranno le possibilità come è successo nel caso della Germania di poter avere o chiedere un numero di vaccini superiore per il proprio Paese ecco questi sono i segni che fanno capire che l'Europa non è ancora quella che chiedevano Schumann e Spinelli non siamo ancora quell'unione di Stati con quel senso solidaristico che dovremmo avere è questo che la Regione Toscana ma io dico tutta l'Italia deve pretendere dall'Unione Europea se saremo un'unione solidale avremo ragione di essere e daremo finalmente uno spirito nuovo a questa Unione che comunque sia permesso in questi 70 e più anni di non avere più guerre all'interno del suo territorio e questo sicuramente è una grande conquista con il Presidente Gazzetti abbiamo iniziato in questi mesi un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo a capire quelli che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quelli che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana La Commissione Europa è una realtà che era presente all'interno del Consiglio regionale da tempo in questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente quindi ha un ruolo e anche un peso politico sicuramente diverso noi abbiamo portato a termine una proposta, una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana è l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali ad esempio l'inserimento prima dell'avvio delle sedute del Consiglio regionale anche dell'esecuzione dell'inno europeo questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa perché è sotto gli occhi di tutti che le grandi prospettive legate al Next Generation al Recovery passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo e se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana potremo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità credo che abbiamo intrapreso un cammino importante che ci porterà, mi immagino, e soprattutto questo è l'impegno a seguire la partita decisiva, fondamentale del Next Generation abbiamo ascoltato le parole del Presidente Sassoli che a dimostrazione di una grande vicinanza, di una grande attenzione ha evidenziato anche quali sono le linee guida per quanto riguarda proprio anche questo percorso Anche quest'anno la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento davvero complesso per le nostre comunità, per l'Unione Europea e per il mondo la drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque e lo sarà anche in futuro perché è un evento devastante, inatteso il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole che specialmente negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che produrre fratture disuguaglianze nel nostro corpo sociale tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi come cittadini, come decisori politici la risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima e non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia una crescita a scapito delle generazioni future e in questo momento storico è fondamentale agire insieme proteggere la nostra coesione sociale incoraggiare un'Europa a discutere, a fare politica, a cercare convergenze vuol dire rafforzare la nostra democrazia e rendere i cittadini protagonisti di questa grande e straordinaria comunità la democrazia si basa sulla partecipazione e noi dobbiamo recuperarla a tutti i livelli le motivazioni che possiamo avere per fare l'Europa non sono quelle dei padri fondatori ma ce ne sono tante e non vanno dimenticate chiudo dicendo che noi all'Università Europea intendiamo naturalmente fare la nostra parte non solo nella conferenza sul futuro dell'Europa ma anche più largamente nel collaborare con le forze vive regionali nel affrontare le sfide di domani siamo molto consapevoli di avere un grande debito nei confronti di una regione che è stata con l'Istituto sempre molto generosa e che poi ci è stato molto vicina in un periodo difficile per noi come per tutti quello della pandemia spero che avremo modo insieme di definire modalità di collaborazione per il futuro e che troveremo così un modo di dare un nostro contributo alla costruzione europea all'unanimità all'Aula approva una mozione presentata da Marco Stella sottoscritta da tutti i capogruppo per attivare la legge regionale per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul lavoro questo certamente non basta non basta dare un piccolo contributo così come previsto dalla legge regionale ai propri familiari per addolcire il dolore se si può parlare di addolcire il dolore perché quella tragedia lì in Toscana e in Italia e nel mondo non deve più ripetersi ecco perché l'appello della madre è da un lato a chiarire quello che è successo credo che debba essere accolto con estrema serietà e si debba fare il prima possibile per accertare le responsabilità qualora vi fossero delle responsabilità e dall'altro mettere in campo tutte quelle azioni per far sì che gli incidenti sul lavoro non avvengano più da parte del Consiglio regionale di Forza Italia sono veramente contento che noi abbiamo fatto un piccolo passo per stanziare il fondo di solidarietà certo questo non basta ma è un segno di attenzione del Consiglio regionale un gesto concreto, significativo poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro perché le cosiddette morti bianche vedere morire una mamma giovane, una ragazza ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita altri ragazzi per questioni legate al mondo del lavoro è insopportabile, è una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle che dobbiamo in qualche modo eliminare nel senso che dobbiamo migliorare la normativa e quindi ridurre questi tragici eventi condividiamo la proposta ma avremmo preferito che fosse allargata il Vescovo durante l'Omelia ha detto una cosa molto forte Luana e tutti i morti sul lavoro sono tutti in piedi davanti a noi che ci stanno chiedendo giustizia e tutela ecco dovremo fare probabilmente un fondo istituire un fondo non soltanto per Luana Dorazio ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio e magari l'hanno fatto con passione e con dedizione per il loro lavoro dovremo pensare a tutti loro e ricordarci che ogni perdita di vita umana sul lavoro è una grandissima sconfitta per la Toscana Risoluzione condivisa da tutte le forze politiche che impegni la Giunta proprio a lavorare per il loro rafforzamento degli strumenti di contrasto per quanto riguarda appunto il tema della sicurezza quindi di rafforzamento della cultura soprattutto della sicurezza quindi molto da fare sul piano della formazione su un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti a questo poi si affianca un altro strumento che è stato introdotto dalla precedente Giunta ed è un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime in questo caso c'è anche un bimbo di pochi anni al quale il Consiglio e la Giunta vorranno certamente non far mancare il proprio sostegno Abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio della seduta io credo che debba rimanere a nostra memoria tutte le volte che succede un fatto così grave e dobbiamo però anche trasformare in propositivo cercando di portare un contributo a chi ne ha bisogno e crediamo debba diventare anche strutturale perché molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro L'obiettivo è quello di preparare gli stati generali della salute e quindi tutte le politiche che la Regione porterà avanti nei prossimi cinque anni legate al tema della salute verranno decise durante gli stati generali che si terranno a fine anno Le politiche della salute per la Toscana dei prossimi anni saranno definite attraverso un percorso congiunto fra il Consiglio e la Giunta regionale Da oggi così si apre un percorso partecipativo che porterà nel mese di novembre agli stati generali della salute percorso di riflessione e di proposta che vedrà impegnata nella prima fase l'Assemblea Toscana che seguirà direttamente il processo partecipativo con il convergimento di cittadini, associazioni, professionisti e amministratori locali per far emergere idee proposte e delineare i principali obiettivi delle politiche regionali in ambito socio-sanitario Ovviamente dovrà tenere conto di tutti i mali del passato ma soprattutto dovrà tenere conto di tutte le idee che rilanciano una sanità importante come quella della Toscana nel futuro Prima della pausa estiva approveremo in Consiglio regionale una risoluzione che conterrà le linee di indirizzo sui quali poi la Giunta organizzerà gli stati generali a fine anno Ascoltare quello che arriva del territorio e cercare poi di trasformare questo in delle risposte concrete come noi riusciamo a portare sempre di più la sanità sul territorio come possiamo fare in modo che il livello dei servizi sia uguale dalla grande azienda ospedaliera ai piccoli ospedali della nostra provincia con le differenze che esistono tra i grandi ospedali e i piccoli ospedali ma con la necessità che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B ed è questo quello che noi mettiamo in campo e per cui lavoreremo nei prossimi mesi Significa avere anche la possibilità di organizzare una rete di presa in cura complessa che risponde in maniera differenziata ai bisogni delle persone Ed è importantissimo che questo sia preceduto da una grande campagna di ascolto della società toscana Parlare di diritto alla salute e di sanità significa anche partecipazione oltre che organizzazione dei servizi per i cittadini Grazie a tutti Grazie a tutti